C.D.A. Entità A. Maestro Andrea attraverso Corrado Piancastelli domanda Quindi il mondo della psiche è come se fosse la negazione della libertà spirituale? Risposta È la negazione della libertà spirituale. In quell'ambito si svolgono però esperienze che si traducono in conoscenza. Qualunque sia la definizione di questa conoscenza, non c'è dubbio che la psiche come il corpo è mediatrice di esperienze che poi diventano spirituali, ma che restano comunque esperienze del mondo esperibile. Lo spirito che non ha una netta determinazione è oscillante tra cose umane che comunque danno esperienza ed evoluzione. Voglio dire che il mondo della Terra non è eterno, è provvisorio, ma comunque fa parte dell'universo è comunque qualcosa di reale, di previsto ed esistente nella dimensione evolutiva. È una parte dell'evoluzione, è un suo momento. Non ha eternità perché è trasformabile, perché tutto ciò che produce non è eterno, compreso la sua cultura e il suo mondo di idee. Tra questo mondo della Terra e quello di fuori non c'è continuità, proprio per la mancanza in esso del principio dell'eternità, ma sostanzialmente esso rientra nel quadro dell'esistenza che ha alla sua radice il principio dell'eternità, dal momento che la materia non è che energia trasformata.